Proseguono le iniziative del Circolo Legambiente Stella Maris di Agropoli per spiagge e fondali puliti. Venerdì 24 maggio dalle ore 9 alle 13 si terrà la pulizia delle spiagge a San Marco in collaborazione con il Comune di Agropoli ed insieme agli studenti dell'Istituto Comprensivo Gino Rossivairo, mentre sabato 25 maggio dalle ore 9 alle 13 la spiaggia di Trentova sarà interessata dalla pulizia a cura degli studenti dell'Istituto Comprensivo Gian Battista Vico. La situazione delle nostre spiagge, dichiara il presidente di Legambiente Stella Maris Sarsano, rimane critica come ha dimostrato l'indagine Beach Liter 2019 di Legambiente. Per ogni passo che facciamo sulle nostre spiagge incrociamo tanti rifiuti in gran parte plastica, ma ad invadere le nostre spiagge c'è ormai di tutto, oggetti di ogni forma immateriale. I rifiuti in spiaggia e sulla superficie del mare rappresentano una piccola percentuale di quelli che entrano nell'ecosistema marino, mentre la restante parte galleggia, fonda e poi le microplastiche vengono ingerite dai pesci, entrando così nel circuito alimentare. I rifiuti spiaggiati arrivano dai fiumi, dagli scarichi non depurati, dai vici usati come pattumiere e vengono lasciati da incivili dopo i picnic. Oltre ad un maggiore senso civico, è necessario approvare al più presto la legge del ricepimento della Direttiva Europea sulla Plastica Monouso e il disegno di legge, salva mare, sul recupero dei rifiuti a mare da parte dei pescatori. Infatti è di ieri mattina la notizia che il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato in via definitiva la direttiva che bandisce l'utilizzo ed il commercio della Plastica Monouso, una vittoria per tutti i cittadini e per l'ambiente. Noi siamo pronti a recepirla, a metterla in atto, il testo è già pronto, aspettiamo solo la pubblicazione in gazzetta ufficiale, ha dichiarato il Ministro Costa. È un passo importante per la lotta l'usegetta, la plastica usegetta ci circonda e ci vorrà del tempo per liberarcene, soprattutto per smaltirla, ma il lavoro che si sta facendo è molto ed è la direzione giusta.